La cronaca ci porta a Torino, è fuori pericolo il carabiniere ha coltellato nel tentativo di sventare una rapina. Gli aggressori si sono costituiti, hanno 16 e 18 anni. Vediamo con Cristiana Palazzoni. Volto coperto, armi in pugno, sono circa le 7 di sera quando i due irrompono in questa farmacia alla periferia nord di Torino. La paura che ho provato questa volta non mi è mai successa, perché questo era determinato e poi quello che ho parlato sembrava proprio fuori di sé. Tra i clienti c'è un carabiniere in borghese, disarmato e fuori servizio e la rapina sembra prendere un'altra piega. Si qualifica e per un momento sembra quasi averli in pugno, forse credono sia armato, ma poi uno prende il bottino, l'altro gli punta la pistola contro. L'arma era solo una scacciacani, il coltello però era vero. Il carabiniere resta a terra, ferito da quattro fendenti, si rialza ma poi finirà in ospedale. I due scappano, solo poche ore dopo il primo si presenta al commissariato, i poliziotti si trovano davanti un ragazzino a poco più di 16 anni. Sarebbe stato proprio lui ad accoltellare il brigadiere Maurizio Sabatino, 53 anni. Questa mattina si è costituito anche il secondo rapinatore di anni, ne ha 18. Adesso il militare in prognosi riservata, ma fuori pericolo, ha dato prova di eroismo, dice la ministra degli interni, la morgese.